Segui La Sette anche su Instagram. La Sette, ovunque con te. La Sette è emersa la realtà che è un po' diversa a quanto pare. Sentiamo le ultime notizie in collegamento appunto dal Policlinico Gemelli. Simone Costa. Sì, buonasera. Le ultime notizie, perlomeno quelle ufficiali, si fermano come hai ricordato tu dall'unico comunicato ufficiale diffuso dalla Sala Stampa Vaticana che parlavano di controlli programmati per Papa Francesco. Poi ci sono state altre notizie che probabilmente superano quel comunicato, tant'è che sono attese comunicazioni ufficiali nei prossimi minuti. Nel pomeriggio, subito dopo l'udienza generale in cui il Papa era sembrato piuttosto affaticato a Piazza San Pietro, il Papa avrebbe avvertito un malone nella residenza di Santa Marta. Anche qui le versioni non sono tutte univoche, si è parlato di un dolore al petto, di difficoltà respiratorie, di lì la necessità di anticipare quei controlli e di arrivare in ambulanza qui al Policlinico Gemelli di Roma, dove il Papa è attualmente ricoverato al decimo piano. Le notizie rassicuranti arrivano da fonti mediche, parlano dell'esito dei primi esami a cui si sarebbe sottoposto il Pontefice, un'attacca e la misurazione della saturazione del sangue, il livello di ossigeno del sangue. Entrambi avrebbero escluso problemi più gravi per il Pontefice. A quanto pare, ma anche questo dovrebbe trovare conferma nei prossimi minuti, il Papa quasi certamente passerà la notte qui nel Policlinico Gemelli, Policlinico dove era stato già ricoverato per dieci giorni operato nel 2021 per una stenosi diverticolare. I suoi impegni nei prossimi due giorni dovrebbero a questo punto essere annullati. Queste sono le ultime notizie, ovviamente aspettiamo il comunicato ufficiale della sala stampa vaticana che dovrebbe arrivare nei prossimi minuti. Per il momento non ci sono particolari preoccupazioni, la sua condizione viene definita in maniera positiva.